Ed eccoci tornati in studio in diretta. Eccoci pronti per una nuova puntata di Market Star, come sapete il primo mercoledì del mese tendenzialmente facciamo il punto della situazione con Sara Silano. Buongiorno Sara, ben trovata a Morning Star Italy. Buongiorno a tutti voi e ben trovati. E appunto con le analisi di Morning Star che vanno a dettagliare maggiormente nello specifico quello che sta accadendo sui mercati alla luce dei fatti più importanti che in qualche modo vanno ad influire anche sulle scelte degli investitori. Quindi questo è un po' il collegamento che cerchiamo sempre di dare in questa mezz'ora decisamente ricca di spunti. Ci siamo lasciate alle spalle le lezioni europee, partiremo da qui con Sara Silano. Ed è un piacere salutare nuovamente Giovanni De Mare, Director Italy Sales di Alliance Burl Time che torna a trovarci in studio. Buongiorno, ben trovati. Ben trovato anche lei. Anche con voi cercheremo di fare una panoramica di quelli che sono l'opportunità di investimento, proprio a partire dai grandi macro temi che ci accompagnano ogni giorno. Certo, assolutamente. Allora Sara, come detto le lezioni europee ormai sono archiviate, sicuramente dobbiamo ancora capire quali risvolti ci saranno effettivamente dai risultati che abbiamo visto, però cosa ci hanno insegnato in qualche modo da un punto di vista del rischio politico? Perché di rischio politico si è parlato enormemente. Sicuramente il tema del rischio politico è un tema che è cambiato per effetto della globalizzazione e comunque anche queste elezioni ce l'hanno dimostrato. Un tempo quando si faceva riferimento al rischio politico ci si riferiva spesso e soprattutto ai mercati emergenti. Oggi ha un senso, probabilmente ha assunto un'accezione più liquida questo concetto rispetto al passato. C'è la possibilità, quella che viene definito come rischio politico, la possibilità di incorrere in delle perdite proprio a causa di politiche economiche, di politiche fiscali, di malfunzionamento del sistema giudiziario, di cambiamenti legislativi, di instabilità istituzionale e così via. Quindi questa accezione del rischio politico è un po' cambiata proprio per effetto della globalizzazione e soprattutto quello che è rilevante che non può essere comunque ignorato da parte degli investitori in nessuna parte del mondo. Le elezioni politiche in Europa ci hanno lasciato uno scenario forse meno drammatico di alcune previsioni, cioè non abbiamo avuto questa maggioranza euroscettica, ma sicuramente abbiamo una situazione di un Parlamento che ha frammentato e quindi bisognerà vedere come si formerà una linea coerente e univoca all'interno dell'Europa. Esatto, poi c'è l'aggravante di quello che è successo nel tema Brexit in Gran Bretagna, ma ci arriviamo tra poco, insomma con il significato dell'uscita di scena di Teresa May, proprio in vista anche del prossimo Parlamento europeo. Questo è chiaro. Allora, dottor De Mare, a questo punto io andrei mirata sulle opportunità di investimento, anche dopo le premesse che sono state fatte da Sara Silano. Certo, nel contesto politico che si è tracciato in Europa sicuramente noi più che commentare, in senso puramente politico andiamo a guardare quali possono essere gli aspetti che questo ci presenta. Sicuramente abbiamo un approccio più di venture capital, quello che ci interessa a guardare in Europa è chiaramente la struttura dei bilanci delle aziende in cui andiamo a investire, l'indebitamento di queste, anche perché l'indebitamento della società è molto sensibile all'aumento dei tassi di interesse, chiaramente nel momento in cui questi aumentano, si ha un riverbero sulla struttura di bilancio. Quindi attenzione al free cash flow, al return investment, a quello che può essere la ciclicità dei utili, perché è un altro elemento che ci dà stabilità negli investimenti. E stiamo guardando tre temi in particolare sulle aziende europee, che un po' sono anche trasversali per diversificazione dei profitti su altre aree, che sono quelle aziende che stanno subendo dei cambiamenti positivi nel loro modello di business, qualche esempio Peugeot, piuttosto che WebOS o Enel come nomi, alcuni che hanno dei vantaggi competitivi rispetto a competitor e che magari non sono ancora espressi nei prezzi e nelle quotazioni, Valeo per esempio, Aircap o KBC e alcuni miglioramenti che invece possono essere tipici di forze dinamiche che si operano all'interno dei settori in cui queste aziende operano, per fare qualche esempio, o Buzzi, Unicem o Pure Airbus o Capgemini per esempio. Quindi questo è quello che ci connota, una ricerca interna, una visione di lungo termine, perché al di là di quale è lo scenario politico, sicuramente quello che ci interessa è guardare la profittabilità delle aziende in cui investiamo. Assolutamente sì, poi torneremo anche su un concetto fondamentale che è quello un po' della differenziazione, perché poi proprio in questi scenari ormai il mercato ci insegna che non si può mai essere tranquilli, bisogna sempre stare alla finestra e quindi ci sono delle parole chiave che noi ribadiamo e ripetiamo ogni volta. A proposito di incertezza, torniamo su quella politica che poi si traduce anche in incertezza economica, ovviamente, quando ci sono troppi punti interrogativi, l'uscita di scena di Teresa a me, perché se non ricordo male Sara, la puntata precedente era proprio a ridosso delle ultime decisioni in tema Brexit, quindi ci eravamo interrogati su i vari scenari che avrebbero potuto poi presentarsi. Ora lo scenario sicuramente è più preciso, Teresa May se ne va, lascia, non è riuscita a portare a termine la Brexit e però ancora rimangono tante questioni aperte. Assolutamente, diciamo che il tema Brexit ci accompagna in tutte le trasmissioni di quest'anno, ci aveva già accompagnato un po' l'anno scorso e il fatto, l'unica cosa certa è l'aumento dell'incertezza dopo l'addio di Teresa May. Non c'è una grossa visibilità, diciamolo, su quali potranno essere le vie e gli sviluppi di questa uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, non ci sono grandi indicazioni derivanti da quelli che potrà essere il successore, da chi potrà essere il successore, ricordiamo che comunque anche il Partito Conservatore è spaccato, quindi ci sono differenti visioni su Brexit da tutte le parti e possiamo dire che effettivamente le incertezze sono aumentate. Questo è forse l'unico dato che possiamo dare per certo in questa fase e in questa situazione. Chiaramente gli investitori cosa possono fare? Cercare di indovinare dove si andrà è difficile, ma anche abbastanza probabilmente inutile. Meglio concentrarsi probabilmente su quelle che sono le valutazioni delle aziende, considerare gli aspetti fondamentali e considerare quello che potrebbe essere un impatto di questa incertezza sull'economia inglese. Ottimo, quindi insomma bisogna avere lo sguardo ad ampio raggio sicuramente, a 360 gradi è aperto totalmente a tutte le varie possibilità. Le varie possibilità senza cercare di indovinare gli scenari. Siamo cercando di essere un po' lungimiranti, però poi analizzando volta per volta, step by step, è quello che dicevamo poco fa. In un contesto prettamente economico, dottor De Male, l'inflazione continua a essere il grande assente. Non so se sei d'accordo e se sì, cosa ne pensate? Sì, assolutamente. La crescita economica, nonostante i mercati azionari nel mese di maggio hanno rispettato il famoso adagio sell and go away, di fatto la crescita economica resta comunque continua nella sua stabilità e per evitare brutte sorprese sostanzialmente sarà obiettivo degli investitori tenere un po' sotto controllo l'inflazione, un po' perché questa tende a far cambiare la politica monetaria nei vari paesi. Ad oggi è un grande assente, come diceva giustamente lei, perché in effetti gli elementi che potrebbero causare una pressione inflazionistica, l'aumento dei salari per esempio negli Stati Uniti, piuttosto che il prezzo del petrolio che rimane ancora basso su scala globale, o il rafforzamento del dollaro, cosa che vediamo non sta accadendo perché anzi l'Euro sta recuperando un po' di terreno, sono tutti elementi che tendono a non verificare, a non donare pressione da un punto di vista inflazionistico. Bisogna fare attenzione perché se questa si presentasse, siccome negli ultimi tempi abbiamo visto un'espansione dei moltipli dei prezzi e delle azioni grazie alle politiche monetarie, alle liquidità che arrivano sui mercati, chiaramente tassi bassi, nel momento in cui questa risalisse, chiaramente ci sarebbe una restrizione da parte delle politiche monetarie e quindi i moltipli tenderebbero a comprimersi e chiaramente le azioni tenderebbero a scendere. Certo, quindi io chiedo sempre l'atteggiamento come rapportarsi a tutto questo? L'atteggiamento è sempre un po' di attenzione, sostanzialmente non c'è il problema oggi, lo teniamo sotto controllo perché l'unico paese che potrebbe avere uno stimolo di tipo preinflazionistico sicuramente verrebbe l'economia più sana che quella statunitense, a seguire quella di alcuni paesi emergenti. Ci sono dei casi in cui c'è più sensibilità all'inflazione, per cui lei raccomanda ancora maggiore attenzione, fermo restando che l'attenzione vale per tutti? Certo, l'inflazione tendenzialmente è presente nei paesi in cui c'è buona salute economica, chiaramente nel momento in cui questa si verifica sono quei paesi che tendono a scaricare una maggiore pressione inflazionistica. Oggi guardando il dato di crescita globale dell'economia è sostanzialmente stabile perché alcuni paesi sono un po' dietro le aspettative, altri sono un po' più in crescita, chiaramente in alcune zone dei paesi emergenti, ma comunque l'economia che per definizione fa l'atrano è sempre quella statunitense, anche se chiaramente le azioni dei paesi statunitense non sono necessariamente una proxy del mercato americano, ma sono per diversificazione dei profitti delle stesse aziende una proxy del mercato globale. Ottimo, Sara Silano, con te volevo rimanere ancora un attimo su un discorso di tornate elettorali, perché alcune tornate elettorali hanno riguardato anche i paesi emergenti, per esempio India, Sudafrica e Indonesia, anche qui mi piacerebbe capire secondo voi qual è il messaggio per gli investitori, il messaggio che è arrivato da queste consultazioni? Sicuramente se ne hai parlato di meno, ma dal punto di vista di investitori che diversificano su più aree geografiche è un aspetto importante. Ci sono state diverse importanti tornate elettorali, abbiamo citato l'India, Sudafrica e l'Indonesia, dove sono stati di fatto riconfermati leader democratici e quindi in qualche modo è stato dato loro il mandato di proseguire verso un progetto e un programma di riforma strutturale per stimolare la crescita. Chiaramente gli occhi sono... l'attenzione è stata rivolta in modo particolare all'India, la più grande democrazia del mondo, di fatto la posizione di Modi è stata rafforzata e la sua sfida sarà proprio quella della crescita economica, perché ci troviamo di fronte a dei problemi di crediti deteriorati in questo paese che è molto serio, c'è una tendenza dell'economia dei consumi ad indebolirsi, quindi il suo programma di riforma sarà una vera sfida per mantenere dei tassi di crescita sostenibili, far fronte a questi problemi strutturali, far fronte a dei problemi ad esempio della burocrazia e quant'altro che da sempre hanno rilevanza in questo paese, anche in Sudafrica il tema della crescita economica è un tema importante, diciamo che però c'è un filo conduttore che unisce tutti i paesi emergenti che è quello delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, questo è un tema che in qualche modo dovrà dipanarsi, perché questi mercati possano comunque guardare al futuro anche in una prospettiva positiva, è comunque un elemento di incertezza per questi mercati. Ecco, a proposito di sguardo al futuro, Dottor De Mare mi piacerebbe rimanere sul tema paesi emergenti per capire che cosa può essere premiante quando si parla di paesi emergenti. Certo, sicuramente nei paesi emergenti abbiamo diverse opportunità, sono considerati più di 50 paesi all'interno di questo basket di investimento, ognuno con delle caratteristiche diverse. Chiaramente i paesi più rappresentativi, di cui prima si accennava anche in virtù delle elezioni che ci sono state recentemente, come riflesso economico, come scelta di investimenti chiaramente orientano un pochettino gli investitori. Sicuramente il rinnovo del mandato da parte di Narei Dramodi in India, quale impatto da un punto di vista finanziario di scelte può avere su un investitore? Sicuramente il tessuto finanziario di quel paese è l'ossatura di una crescita economica, lui aveva promesso di portare una crescita economica intorno al 7%, di essere uno che aveva ridotto la corruzione nell'apparato statale, di aver in qualche maniera attuato una serie di riforme economiche. Il sistema finanziario in India è molto particolare, molto frammentato e molto diversificato e ha subito anche recentemente una crisi di liquidità. Qual è la cosa singolare di questo settore? Sicuramente il modo con cui molti imprenditori si finanziano sul sistema indiano, dove la maggior parte di questi piccoli imprenditori nelle aree rurali usano dei banchi di pegno, dove materialmente depositano il loro, quindi a garanzia del finanziamento che poi utilizzano all'interno della propria azienda. Quindi sono queste aziende che hanno una creazione di utili molto forte, sostanzialmente più stabili e assente anche la crisi di liquidità. Quindi questo può essere un tema di investimento interessante in India o anche per esempio l'Healthcare, che è un paese chiaramente così grande in termini di popolazioni, ha delle aziende come Apollo Hospital, che per esempio è un'azienda che fa le medicine a distanza, quindi sostanzialmente ha nei grossi centri i principali ospedali, ma nelle zone rurali, al nord dell'India, per esempio nelle zone più lontane dal centro, si riesce a curare la popolazione locale tramite telemedicina e a contempo anche a trarre dei medici qualificati con un sistema di remunerazione molto interessante. Quindi parole chiave quando parliamo di paesi emergenti, la mia domanda era cosa possa essere più premiante, non so se l'attività approccio multi asset, queste sono un po' le indicazioni che in qualche modo vi sentite di dare, poi fermo restando che come ha detto lei, situazioni e situazioni, quindi diverse opportunità, diversi approcci, quello sicuramente, però se volessimo generalizzare questo potrebbe essere corretto? No, un approccio corretto sarebbe un multi asset che investe sia in equity, in credito dal punto di vista aziendale e anche quindi corporate tra l'altro, e anche sovereign, quindi mixato in una soluzione multi asset sicuramente ha più senso. Allora, incertezza geopolitica, Sara, insisto su questi concetti con te, ma perché poi tra poco peraltro andremo su temi più di investimento anche relativa all'analisi di Morningstar, però mi interesserebbe capire ad aprile, a causa proprio dell'incertezza geopolitica, se gli investitori in qualche modo hanno mostrato avversione al rischio, comunque se hanno mostrato qualche atteggiamento particolare, qualche comportamento particolare. Diciamo che è difficile legare il discorso geopolitico elettorale agli atteggiamenti degli investitori, i dati che Morningstarà sulla raccolta dei fondi comuni di investimento, dati a fine aprile e quelli di maggio sono ancora in elaborazione, registrano in realtà un rialzo, forse lo possiamo vedere. In realtà sono stati flussi netti positivi, quindi non c'è stata fuga dagli investimenti in un contesto preelettorale, abbiamo avuto flussi netti positivi per 22 miliardi di Euro in tutta Europa, se contiamo anche i monetari. Però che cosa ha trainato? Hanno trainato soprattutto i fondi obbligazionari, gli azionari hanno continuato a registrare dei deflussi, anche se meno rispetto a marzo, sono tornati positivi, questa è una notizia anche positiva, i fondi bilanciati che dal settembre 2018 invece stavano continuando ad accumulare dei riscatti superiori alle sottoscrizioni, mentre rimane ancora più difficile la situazione degli alternativi, ancora con il segno meno. Se guardiamo poi alle categorie, sicuramente gli azionari Eurozona hanno subito dei deflussi e questo è forse l'unico tema che potrebbe più direttamente essere collegato all'incertezza elettorale, però non è neanche il primo mese in cui vediamo questi deflussi e poi l'abbiamo visto anche sugli azionari degli Stati Uniti, forse il trend più interessante rimane quello del rapporto tra fondi indicizzati e fondi attivi dove diciamo che l'81% dei flussi totali ad aprile si è diretto verso delle strategie indicizzate, quindi oggi nell'equity, nel segmento azionario il 30% degli asset è ormai in strategie indicizzate. Ripartiamo dalla parola incertezza anche con lei dottor De Mare, perché poi quando c'è incertezza, volatilità ci si chiede sempre quale possa essere la strategia migliore, non a caso anche a Sara ho chiesto se l'atteggiamento degli investitori è cambiato, è modificato o con quale approccio si sono avvicinati a vari strumenti e opzioni, quindi la strategia, se lei vuole usare un'altra parola liberissima, questo credo che vada mirato nelle indicazioni che possiamo dare. Assolutamente, i flussi parlano anche da solo quello che diceva Sara, è corretto, c'è un ritorno di amore verso le strategie indelega, quindi di asset allocation, in cui la diversificazione fa da principe e chiaramente per gli investitori, soprattutto per gli investitori medio, questa è una strategia che deve essere costantemente nei propri portafogli, perché la logica è una crescita del capitale sul lungo periodo. Non mi trovo molto piacevolmente d'accordo il discorso dei fondi passivi, della presenza dei fondi a bassa gestione, abbassa track in error o comunque fondi passivi, che è comunque con trend chiaramente, per un motivo molto semplice, perché in effetti la prima cosa che si fa in un'industria è la guerra dei prezzi, sostanzialmente senza andare a puntare sulla qualità. Chiaramente nel momento in cui c'è pressione sui rendimenti, avere il costo più basso favorisce queste riprese delle strategie, che funzionano molto bene nel momento in cui c'è una direzionalità, possibilmente verso l'alto, perché quando è verso il basso chiaramente queste strategie portano delle perdite molto forti per l'investitore, quindi preferiamo invece noi parlare di gestione attiva, dove oggi magari, o meglio negli ultimi anni è stata meno in favor per i consulenti o comunque per i bankers nella proposizione della loro clientela, crediamo che invece nel momento in cui la volatilità, come abbiamo visto far capolino nuovamente nel corso del 2018, si possa riaffacciare questo tipo di strategie che ha come missione quello di creare un extra valore corretto per il rischio, possa avere sicuramente maggior successo e anche maggiore soddisfazione per la clientela. Sì d'accordo Sara, sì. Sono d'accordo sul fatto che sicuramente le strategie passive che è un dato di mercato che stanno acquisendo quote del mercato dei fondi e negli Stati Uniti il trend è ancora più accentuato rispetto all'Europa, probabilmente faranno anche pulizia nel senso che faranno emergere effettivamente quelle che hanno una qualità attiva importante, perché la strategia attiva, e sono d'accordo, ha senso nel momento in cui si crea questo valore rispetto a un indice, se in realtà e poi avremo comunque modo di affrontare il tema dei costi, io faccio pagare come attiva una strategia passiva, a questo punto non ci stiamo dal punto di vista dell'indirizzo del mercato e quindi è comprensibile che si scelga un prodotto che costa meno. Vedo che è allineato anche il Dottor De Mali, assolutamente. Concorda, sì, assolutamente. Anche perché la gestione attiva va proprio in questo senso, la diversificazione, come diceva Warren Buffett, è per, faccio una forzatura di ignoranti, nel senso che per chi non conosce, quindi chi fa una selezione attenta di fare compiti a casa, come dice Warren Buffett, seleziona magari 30-40 titoli in portafoglio al massimo, anno, anche perché come Markowitz nella sua teoria del capital asset pricing model diceva al ventesimo titolo successivo che si aggiunge si riduce la diversificazione in termini marginali, per cui diciamo un portafoglio già di 20 titoli offre un'ottima diversificazione se si sa che cosa si compra. Assolutamente, sì, se si è consapevoli. Sì, se si è consapevoli, esattamente. Abbiamo ancora qualche minuto, dobbiamo andare forse un po' più velocemente, però ci sono delle questioni che non voglio assolutamente lasciare in sospeso. Per quanto riguarda Sara e Morningstar, mi piacerebbe capire, a partire ancora dalla Mifid 2, perché è da un po' che non ne parliamo, però credo che sia importante che gli investitori guardino con attenzione. La Mifid 2 sono cominciate ad arrivare i primi rendiconti ex post sui costi proprio previsti dalla Mifid. Perché è importante mantenere sempre i riflettori puntati su questo concetto? Sono arrivati i primi rendiconti pochi a dire, è vero, ma prossimamente dovranno arrivare… Però si può cominciare a fare un bilancio, un primissimo bilancio. Dovranno arrivare. Quello che forse è il messaggio più importante è non sottovalutare l'importanza dei costi. I costi negli investimenti sono l'altra faccia del rendimento, perché vanno chiaramente a ridurre la parte di rendimento che un investitore può portare a casa. questi report daranno un'idea migliore rispetto al passato di quello che è stato il costo per l'investitore finale degli investimenti. Mornistar dal lato suo ha sviluppato questo indicatore di costo rappresentativo cercando di cogliere l'interezza del costi e non solo le commissioni di gestione che sono sì importanti, ma sono solo una componente. Sicuramente da un'analisi che è stata effettuata su 35 mila fondi comuni europei, l'interessante è notare come di fatto spesso si arriva a dei costi che sono anche il doppio rispetto alla commissione di gestione. Ad esempio, in prodotti come quelli alternativi abbiamo scoperto che la commissione di gestione è il costo totale per un investitore più che doppio rispetto alla commissione di gestione che siamo abituati a considerare o a guardare. Va bene, quindi insomma, detto che ne sono arrivati pochi al momento, però arriveranno? Arriveranno, è importante guardare perché si ha un'idea di quanto si è speso per il proprio portafoglio e per il servizio di consulenza che si è avuto. Invece, Dottor De Mare, nella puntata precedente quando lei ci è venuto a trovare abbiamo parlato molto, avevamo parlato molto di investimenti sostenibili, quindi collegati anche a quelli che sono i cambiamenti climatici e l'avevamo detto insomma che è un tema da non sottovalutare anzi che sarà sempre più presente quando si parla di investimenti. Siccome effettivamente siamo stati in quello lungimiranti, ma insomma era abbastanza palese, i cambiamenti climatici devono sempre essere tenuti in considerazione quando si parla di investimenti. Mi piacerebbe che lei facesse un piccolo resoconto, insomma magari a distanza di un mesetto, un mesetto e mezzo da quando ci siamo visti e quali sono, quali tipi di aziende sono più esposte o meno al concetto di cambiamento climatico? Certo, sicuramente il tema del clima, dell'impact investing come si dice generalmente è un elemento che le società di gestione attiva come la nostra stanno tenendo sempre più in considerazione. Forse solo per il momento in cui uno valuta questo tema con le famose due C che dicevo magari la volta scorsa, dall'alto convenienza di marketing, si può andare in questo senso perché oggi è un tema abbastanza comune, ma crediamo che sia più la seconda C che vada tenuta in considerazione, che è quella della convinzione. Convenzione perché riduce i rischi, i rischi nella selezione dei titoli che uno inserisce nei propri portafogli. Oggi si parlava di un potenziale impatto sulle aziende, sulle blue chips di circa 1000 miliardi se non tengono in debito conto di come la loro attività possa impattare dal punto di vista climatico. Al di là del rumore mediatico che ci possa essere in questo senso, basta ricordare qualche tempo fa Leonardo Di Caprio con il suo Before the Flood, il documentario che aveva insieme a Obama anche discusso negli Stati Uniti, uno degli americani che va un po' contro quello che può essere l'ultimo mood dell'attuale Presidente in questo senso. Però come diceva, per tornare alla sua domanda, qual è l'impatto che queste aziende possono avere se non rispettano, comunque se non si fa attenzione anche nella selezione di queste aziende? Si prende in considerazione che è un tema necessario, cioè fondamentale. Sì, assolutamente, basta pensare che la siccità in California ha fatto fallire una società, quindi questo è un tema, oppure nel Nord Carolina, Matt Fools, l'uragano Florence ha impattato gli impianti o Bax International per l'uragano che c'è stato in Porto Rico ha avuto problemi all'approvvigionamento della propria produzione, quindi sono tutti elementi che da un punto di vista di localizzazione anche delle stesse aziende a tenere presente, quindi al di là di quello che può essere l'impatto, chiaramente, che ciascuna azienda nella propria produzione può avere sull'ambiente, è anche chiaro guardare se opportunamente queste aziende hanno una localizzazione tale che in qualche maniera le permette di non subire degli impatti che il clima ai mesi sta, come abbiamo noi tutti notato, diciamo rimedendo. Quindi attenzione perché i rischi sono alti, non è che si parla di decisioni che si possono prendere o meno in base alla sensibilità di ciascuno, no? È proprio un rischio effettivo economico. Mezzo punto percentuale di innalzamento climatico significa per alcune aree scomparire dalla faccia della terra. Quindi immaginiamoci, ha portato degli esempi estremi però che comunque sono reali. Danno l'idea. Danno l'idea, assolutamente sì. Allora siamo quasi in chiusura ma rubiamo un paio di minutini di sottovoce, però giusto per arrivare a conclusione. Allora Sara, secondo le analisi di Morningstar i costi dei fondi attivi stanno scendendo in Europa, domanda, e poi in Italia, perché anche questo è un tema su cui spesso torniamo e quindi mi piacerebbe capire anche con te. Sì, c'è una buona notizia, sono scesi. Dopo la crisi finanziaria del 2008 le nostre analisi hanno rilevato che i costi della gestione attiva sono in discesa in tutta Europa e anche in Italia, anche se in realtà bisogna dire che l'Italia rimane decisamente più cara rispetto al resto d'Europa. Questo grafico ci illustra bene come è stata la discesa dei fondi azionari attivi dal 2008 ad oggi e quindi questo è un aspetto positivo. Teniamo conto, e si parlava prima di guerra dei prezzi, di competizione sui prezzi, che la parte di strategie passive non è stata alla finestra, anche su questo fronte ci sono state delle riduzioni di costi, quindi diciamo che il tema del pricing dei prodotti finanziari rimarrà un tema caldo, che la direzione è quella della discesa e che la diversificazione degli asset manager poi dovrà per forza passare da altre leve. Benissimo, in conclusione, sempre tornando sul clima, Dottor De Mare, è direttamente proporzionale la parola clima allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, proprio recentemente se ne è parlato perché ci sono degli obiettivi da raggiungere. Questi temi sono rilevanti per gli investitori? Sì, mi immagino che la risposta sia questa, però quanto sono recepiti? Poi torniamo anche un po' al discorso che facevamo poco fa. Alcuni più degli altri, sono 17 temi che sono stati siglati da 193 paesi tempo fa, tra cui la riduzione della fame nel mondo, della povertà o chiaramente l'attenzione all'impatto ambientale, come si diceva prima. Alcuni temi sono più in auge rispetto agli altri, magari meno noti o comunque possono essere quelli relativi all'uguaglianza da un punto di vista di gender e di diversità, perché chiaramente quello rimane sempre un elemento su cui si va a porre meno attenzione, anche se chiaramente questo diventa importante. Alcune aziende come Etsy per esempio, che è un'azienda che ha una piattaforma online dove la produzione dei beni è fatta da artisti, ma soprattutto l'83% delle aziende sono donne che producono questi oggetti o questi elementi che vengono su questa piattaforma, quindi un'azienda che in termini di gender è per esempio molto aperta in questo senso. Va bene, allora Sara Silano ci rivediamo tra un mesetto, come sempre. Esatto. Esatto, primo mercoledì del mese con Market Star. Dottor De Mare ci vediamo prestissimo. Anche perché, ripeto, sono temi di cui si parla poco, invece dobbiamo parlarne di più, quindi insomma mi piacerebbe che insieme alle fonti si mantenesse un po' di stabilità anche su questi temi. Grazie mille al Dottor De Mare di Elias Bernstein e Morningstar in Italia di Sara Silano. A tra un mese con Market Star, invece per quanto riguarda la programmazione delle fonti TV, continuiamo con l'analisi di mercato dopo la pubblicità. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.